se ragazzi prima di tutto iscrivetevi al canale di youtube e attivate la campanella per avere tutte le notifiche su quando sono usciti i video se andiamo ad aprire questo porta controlli della tom toc che ci ha mandato e ringraziamo tantissimo loro è un bellissimo porta controller e adesso andiamo a fare l'unboxing ok andiamo ad aprile intanto vediamo tom toc poi tom toc armor class for nintendo switch pro controller perciò per il pro controller che abbiamo qua e andy e più c'è scritto sotto 3 stadium e tutto quanto e andiamo ad aprire dietro c'è scritto come fatto e come fare tutto quanto andiamo ad aprirlo e a a vederlo come ok intanto abbiamo aperto questo lo troviamo così infatti così e adesso vi faccio vedere guardate è leggerissimo intanto riprende tutto il pro controller infatti si può vedere qua i tasti la croce direzionale i vari pulsanti e tutto quanto andiamo ad aprirlo tirate giù questo tipo 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 le valigette quelle robe lì che si aprono per così lo infilate dentro guardate così e poi così come c'è scritto dietro qua e poi dice di far così e così eccovelo qua è davvero bellissimo può essere ricaricabile tanto che sta che in modalità qua dentro per non sporcarsi e non rovinarsi e più ha anche qua un porta laccetto se volete mettervelo come l'accetto non ha una maniglia perciò l'azienda non l'ha fatta e sarebbe stata una bella cosa perché era molto più bello se c'era anche una maniglietta perché così lo potevate portare giù però vi ha fatto questo buchetto qua così potete metterci un cordino per tenervelo in mano da qua e qua non uscirà più potrete bella la cosa di caricarlo ha un design fantastico fatto di plastica ma un design fantastico come si può vedere fatto così e dietro così col logo e il sito davvero davvero bellissimo e andiamo alle conclusioni ebbene ringrazio tantissimo tomtoc per aver dato questo porta pro controller davvero davvero bellissimo e utilissimo perché io ci tengo molto le cose chi ci tiene molto le cose della switch o in generale questo è un ottimo prodotto vi ricordo che potete andare sul sito tomtoc per andarlo a comprare qua sotto vi lascio il link e poi ci vediamo con un altro video ringrazio in prima di tutto l'azienda per averci dato questo porta controller per pro controller e vi ricordo mettete un mi piace per sostenere il video e più iscrivetevi se non siete iscritti e schiacciate la campanella per la notifica per sapere quando arriva il magnifico nostro video alla prossima sempre e soltanto nintendo ciao